Acqua Comfort alla lavanda e Acqua Comfort al fior d'aliso per rimuovere eventuali residui di calcare dovuti al risciacquo con acqua d'oro penetto dopo la detersione. Acqua Comfort alla lavanda per occhi irritati e arrossati, Acqua Comfort al fior d'aliso per contrastare le borse sotto gli occhi. Puoi nebulizzare Acqua Comfort prima della nostra maschera Hydra Night Mask, ne potenziali all'efficacia. Nebulizza Acqua Comfort prima della nostra maschera professionale Algin Mask. Prepara nell'apposito ciotolino di vetro con un misurino di polvere e due misurini di acqua del rubinetto la tua maschera professionale. Miscela e mescola fino ad ottenere una consistenza omogenea. Applica su viso e collo facendo attenzione a creare dei bordi uniformi. Dopo 15 minuti rimuovi in modo assolutamente semplice la maschera. Eventuali residui devono essere rimossi con un velo di crema. Alla fine della maschera la pelle sarà perfettamente regenerata e i pori meno evidenti.